Fadello Fadello viene dal Canada, però tradisce le sue origini italiane, nome e cognome sono chiaramente italiani. Poi lui si presenterà, Fadello è pastore di una delle chiese di Montreal. Bene, Dio se l'ha dato, soprattutto perché fino a qualche momento fa non avevo proprio voce, ma siamo fiduciosi che il Signore ci parlerà con la sua voce spirituale. Che gioia trovarci qui con voi, anche per me è la prima volta a Rimini, la prima volta in Emilia Romagna. E' bello vedere una chiesa così, non un edificio, sto parlando della chiesa di Cristo. Persone che hanno la pace e la gioia del Signore nel loro cuore. Stasera voglio rivolgere la vostra attenzione in Atti, capitolo 16. Vogliamo alzarci per la lettura della parola, Atti, capitolo 16, verso 25, dove è scritto Verso la mezzanotte, Paolo e Silla, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. A un tratto vi fu un gran teremoto, la prigione fu scossa dalla fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spazzarono. Il carceriere si svegliò e veduto tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce, non farti del male, perché siamo tutti qui. Il carceriere, chiesto un nome, balzò dentro e, tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di Silla. Poi li condusse fuori e disse, Signori, che devo fare per essere salvato? Ed essi risposero, credi nel Signor Gesù e sarai salvato, tu e la tua famiglia. Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe, e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia, perché aveva creduto in Dio. Padre Celeste, ti ringraziamo stasera della tua presenza, perché certamente dove due o tre sono radunati insieme c'è la tua presenza e qui la sentiamo, sentiamo lo Spirito di Dio. Signore vuoi tu operare miracolosamente nei nostri cuori, vuoi aprire i nostri cuori, apri le nostre menti, benedisci, vieni Spirito Santo con la tua potenza, vieni parola di Dio dalla bocca di Dio. Aiuti qualche anima stasera, Signore, che ha bisogno di te, fa che usciamo di questo locale, trasformati, cambiati, per mezzo dello Spirito di Dio. Nel nome di Gesù te lo preghiamo. Amen. 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 Dite amen. No, più forte, non sento io. Grazie, ecco, accomodatevi. Oltre a essere un povero vecchietto, ho le orecchie un po'. Allora, quando volete dire a me, ditelo ben forte, così vi sento, sarò così incoraggiato. In questo capitolo leggiamo che Paolo ha ricevuto un appello, una visione di andare nella regione di Macedonia. Voi sapete che gli è venuta una visione di un uomo che lo chiamava a Macedonia. E quindi insieme a Sila, insieme a Lucca e a Timotio andarono a Filippi, quale fu la città più importante della regione. Filippi, voi sapete, si trova sulla costa della Grecia, leggermente all'interno, verso l'est della Grecia. E dice che quel giorno loro andavano nel luogo di preghiera e mentre loro camminavano c'era una ragazzina, una ragazza che li seguiva. Lei aveva, la Bibbia ci racconta, aveva uno spirito di divinazione e per mezzo di questo spirito di divinazione, ve l'ho detto, che so sbagliare in tre lingue, lei poteva capire il futuro o poteva capire anche delle cose nascoste della vita di una persona. La Bibbia dice che lei era poseduta da questo spirito. In altre parole, lei non controllava lo spirito, ma era lo spirito che controllava la sua vita. La Bibbia ci racconta anche che questo spirito demonico che dimorava in lei, abitava in lei, era la fonte di gran profitto per gli uomini a cui lei apparteneva. Sapete, oggi giorno, non so qui in Italia, fra di voi, ma in America va molto di modo l'oroscopo, va di modo tra certe persone, le stregonerie. Ricordo anni fa un amico, sua moglie aveva la fobia dei gatti e lui era convinto che qualcuno aveva fatto una maledizione, il mallocchio su sua moglie. Allora voleva portare la moglie a una strega per fargli cacciare questo spirito. Ho detto, ma perché non ti rivolgi all'iddio che ha ogni potenza, al di sopra di qualsiasi potenza di questa terra. Ma le persone lo fanno, vanno in cerca di una parola che darà speranza alla loro vita. Le persone pagano soldi per sentire qualcosa che forse cambierà, trasformerà la loro vita. Ma sappiate che questi mezzi che siano falsi o che siano veri, veri spiriti, sono controllati sempre da potenze demoniaci. Quindi questa donna gridava, la Bibbia dice, al versetto 17 lei diceva questi uomini, ascoltate a questi uomini che sono servi di Dio. Io mi meraviglio sempre quando leggiamo nella Bibbia che i diavoli cercano alle volte, dicono alle persone, ascoltate, loro sono servi di Dio. Immaginate, come mai che uno spirito demonico cerca di dare credenziali all'Apostolo? La Bibbia dice che lei l'ha fatto per diversi giorni. In effetti dava una testimonianza a favore di Paolo. Vedete che questi spiriti demonici mischiano sempre un po' di verità con il loro messaggio. C'è sempre abbastanza verità affinché la persona viene presa in quella trappola perché dice sì, è vero. Non alzate la mano, qualcuno qui è mai andato forse nella vecchia vita a cercare delle informazioni sulla sua vita, ha mai seguito sul suo oroscopo, siete mai andati sul giornale, avete letto, avete detto, ma è vero quello lì che dice, o si va a leggere il segno, come si dice, zodiacale, ma è vero, io sono proprio così, quello è il mio carattere. C'è un pizzico di verità e questo è il mezzo che il diavolo ha sempre usato, un po' di luce, un po' di verità mischiato con la falsità. E quindi vediamo che questa donna, questa ragazza, dava questa testimonianza, ascoltate a questi uomini che loro sono servi di Dio. E finalmente la Bibbia dice, e mi piace al versetto 18 perché la parola di Dio non risparmia mai le parole, ma parla chiaramente, è concisa e dice, Paolo, infastidito, si voltò e disse allo Spirito, io ti ordino nel nome di Gesù Cristo che tu esca da lei, da Costei. Perché era così irritato Paolo? In fondo, questa ragazza non dava una testimonianza valida, Paolo era irritato alla fonte del messaggio. Lui non aveva bisogno di approvazione che veniva dalla fossa dell'inferno, lui non aveva bisogno del diavolo che dice che lui è apostolo, perché lui aveva la sua potenza dal cielo, dal nostro Signor Gesù Cristo, alleluia. Però ci indica una cosa, che noi dobbiamo essere attenti al messaggio che noi riceviamo. Difatti Gesù disse in Marco 4,24, badate a ciò che udite. Vedete che ci sono tanti messaggi, ai giorni d'oggi ci sono tanti messaggi, vedo alcuni giovani in mezzo a noi. Ho una cugina che è molto sincera, ama il Signore, però alle volte credo che mette più importanza alla parola di Wikipedia che alla parola di Dio. E va a guardare i video che parlano del fine del mondo, ma dico, cara, perché non guardi la parola di Dio? Lascia perdere l'internet, lascia perdere quelle cose, tutte quelle voci che dicono che succederà questo, succederà quell'altro. Noi abbiamo la parola di Dio e noi siamo fermi su quella parola. Alleluia! Perché un messaggio suona bene, non significa che è un messaggio dal cielo. Ci sono tanti falsi messaggi. dobbiamo vedere la fonte del messaggio. Se il messaggio è motivato dall'autointeresse, dal profitto, dalla falsa dottrina, ce n'è tanto nel mondo di oggi. E quindi Paolo comandò lo spirito di uscire da quella ragazza. E avete notato che cosa è successo? Qualcuno ha mai letto questo passo? Avete letto la storia qualche volta, no? Dice che egli uscì in quell'istante. Nemmeno le dite funzionano stasera. Vedete che c'è potenza, c'è potenza nella parola di Dio. In quell'istante. Mi piace, mi piace sentire che Dio ha operato subito. e di conseguenza i proprietari di questa ragazza furono un po' irritati. Vedete che il mondo è così, eh? Quando qualcosa di buono ti capita, quando tu ricevi la guarigione, dovrebbero essere contenti per te. Quando tu ricevi la liberazione, dovrebbero essere contenti, invece no. No, perché non sei più dei nostri. Non sei più come siamo noi. Non sei più legato. Sono gelosi. Ricordo una donna, tempo fa, quando lavoravo all'Alitalia, e c'era un povero signore che lui giocava alle lotterie ogni settimana e ci rimetteva. Carte di credito tutti pieni, debiti a destra e sinistra. E lui giocava, giocava, centinaia di dollari ogni settimana. È arrivato, una donna disse, se lui vince, mi farà una rabbia. Perché? Perché deve vincere lui, misera persona che è. Devo vincere io. Vedete, il mondo è così. Il mondo è così. È vero. Lo sapete. Voi siete nel campo di lavoro. Siete a scuola. Il mondo è così. Invece di essere contenti che questa ragazza è stata liberata, loro erano arrabbiati, hanno preso Paolo e Sila, e c'è anche un elemento di razzismo. Dicevano, questi sono giudei. e la Bibbia dice che i pretori presero Paolo e Sila, li hanno battuti. E poi li hanno consegnati a questo carceriere. E hanno detto al carceriere, tu li devi guardare attentamente. effettivamente la parola che hanno detto a lui è stata è la tua vita per la loro vita. In altre parole, se questi sfuggono, tu ci rimetti la pelle. e la Bibbia dice che lui prese Paolo e Sila dopo che furono battuti ingiustamente e li portò in una camera interna del carcere e li legò nei ceppi. Ed ecco dove li troviamo quando abbiamo iniziato la lettura al versetto 25. E dice che Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio. Questo è uno dei passi miei preferiti della Bibbia, perché ho passato tante di quelle afflizioni. Mi sono trovato tante volte in una cellula spirituale oscura dove l'anima mia soffriva, dove ho detto ma signore dove sei? Signore dove è il tuo aiuto? Io sto cercando di servirti. Come mai tutti questi mali mi capitano? Invece vedo questi due servi di Dio invece di lamentarsi, invece di dire ma signore facevamo nient'altro che la tua volontà, andavamo a posto al luogo di preghiera, perché ci tratti così? No. Paolo e Sila hanno un altro spirito. Ce l'abbiamo anche noi. Se non ce l'abbiamo, signore, daccelo. Dacci quello spirito che anche nell'afflizione, anche nei momenti più tristi, più difficili della mia vita, signore io posso lodare a te. Ma notate che cosa è successo. La Bibbia dice che loro pregavano, cantavano inni. Vi ricordo che era verso mezzanotte e dice che i caccerati li ascoltavano. Alleluia. Sapete che il mondo vi sta guardando? Aspettate, forse non ho sentito bene. Sapete che il mondo vi sta guardando? Ah, beh, grazie. Pensavo che ero diventato sordo. il mondo vi sta guardando. Questo è un modello per i credenti. Sono nei tempi di afflizione, nei tempi di malattia, di tristezza, che noi dobbiamo fare una scelta. dobbiamo scegliere se ci lamenteremo e diremo che Dio non è giusto, che Dio non ci sta trattando come dovremmo essere trattati, oppure abbiamo la scelta di dire, di cantare inni alla gloria, all'onore di Dio. E quando le persone nel mondo vedono che su di noi e anche in quei momenti di afflizione c'è un sorriso, c'è la pace del Signore. Vi ricordate quando i due tori sono crollati a New York? E quel giorno ricordo che sono entrato in ufficio e le donne in ufficio piangevano, crollavano, la paura e la mia presenza come sono entrato nell'ufficio ha portato pace. e questo è il lavoro del credente di andare nel mondo e portare pace. Quando noi siamo sull'autostrada qualcuno ci taglia la strada portiamo pace o portiamo maledizione? Pace. Pace. quando siamo irritati portiamo pace o portiamo maledizione? Nella nostra casa portiamo pace o portiamo maledizione? Sapete, i vostri figli vi guardano, eh? Vi guardano e vedono quando papà e mamma si irritano una domenica dovevamo andare in chiesa la macchina non mi si accende. E sta macchina? Ma domenica mattina ci si deve andare in pace, signore, perché non fai camminare sta macchina? Signore, ho bisogno della tua... Signore, mi ha detto tu hai la mia pace, devi soltanto scegliere. Sarà la pace? Guarda che tua figlia ti sta guardando. E se tu perdi la pazienza lei vedrà che questo è il modo di agire. Per questo motivo noi diciamo gloria a Dio. Signore, aiutaci. dacci la pazienza sì con noi. Il fratello, non so quanto di voi conoscete il fratello Elio Marocco ha scritto un libro della sua vita tempo fa e io ho dovuto fare la traduzione in inglese. Una delle cose che mi è rimasto impressionato di quel libro è che quando hanno preso la nave dall'Italia per andare in Australia quella nave ha dovuto fare il giro dell'Africa perché la Suez era chiuso per la guerra e passando per l'Africa i mari sono molto brutti sono mari mossi e lui ha detto la cosa che mi è rimasto impresso che mentre altri bambini avevano paura forse perché vedevano i loro genitori che erano paurosi noi non sentivamo paura perché i nostri genitori erano sempre allegri se voi comunicate paura ai vostri figli loro avranno paura ma se voi comunicate pace serenità la potenza di Dio loro vivranno in vittoria alleluia e in questa generazione i geni i nostri giovani devono sentire la vittoria di Cristo c'è un mondo che li vuole schiacciare ci sono amici che forse li prendono in giro perché sono credenti perché sono cristiani perché non dicono bestemmie fratelli e sorelli date un buon esempio ai vostri figli dice che era intorno a mezzanotte e Paolo e Silla cantavano e pregavano la cosa che è meravigliosa è che gli altri carcerati questa è una carcere non mancano le brutte parole nelle carcere invece di dire voi due state zitti è mezzanotte noi vogliamo dormire la Bibbia dice che loro ascoltavano loro ascoltavano perché c'è potenza nella presenza di Dio noi possiamo lamentarci della nostra condizione possiamo dare colpa a Dio colpa al mondo colpa al marito colpa alla moglie oppure possiamo lodare adorare il Signore ma quello che noi facciamo ha un impatto sugli altri le nostre preghiere la nostra adorazione viene visto dal mondo che testimonianza stai dando te fratello sorella al mondo alla tua famiglia la Bibbia dice che improvvisamente ci fu un terremoto credo che sia stato un terremoto abbastanza pesante abbastanza grande la Bibbia di fatti dice un gran terremoto tale che le porte dei cancelli del del carcere si sono aperti le catene sono caduti non so che tipo di terremoto può far cadere le catene ma così dice la Bibbia però c'è una cosa molto importante che vi voglio far notare stasera quando noi sentiamo che le porte del carcere sono aperte che le catene sono caduti noi cominciamo a dire eh gloria a Dio la vittoria la liberazione alleluia potete dire alleluia loro hanno pregato e il Signore li ha liberato ma c'è qualche altra cosa che è successo qui sono molto impressionato dal fatto che Paolo e Sila hanno pregato e hanno lodato il Signore ma c'è qualche altra cosa il carceriere avete mai pensato a questo povero uomo a che cosa stava pensando che cosa lui sentiva nel suo cuore abbiamo detto è la tua vita per la loro vita e dice che lui si svegliò e veduto le porte aperte così spalancate sguainò la spada per uccidersi pensando che i prigionieri fossero fuggiti ricordatevi è la tua vita per la loro vita e molte persone conoscono la condizione di questo carceriere lo conoscono molto bene perché sono stati schiacciati sono stati in circostanze in cui non arrivano a fare nulla nella loro abilità loro pensano che tutto è perso è uno spirito che opprime uno spirito pesante che viene nella vita della persona e lui sentiva completamente schiacciato completamente distrutto non c'è nulla di più duro più difficile che di essere attaccato all'improvviso immaginate quest'uomo stava dormendo tranquillamente stava tranquillo improvvisamente un attacco sulla sua vita e tutta la sua vita cambia vi è mai successo vi è mai successo una visita al dottore una cosa di niente dottore ho un male qui dobbiamo esaminare dopo qualche settimana risultato ho brutte notizie per te una coppia a Montrea la gioia della moglie incinta poi dopo qualche settimana signore tale signora questa bambina non è normale siamo schiacciati sotto il peso di un attacco spirituale dal nemico una parentesi così sarete tutti potete rallegrare insieme a noi i dottori hanno detto di abortire quella bambina quell'uomo anche lui dottore ha detto noi non crediamo all'aborto noi porteremo a compimento hanno detto lei sta sbagliando guarda che questa bambina avrà una vita bruttissima sapete che cosa è nata normale bellissima cuore come tutti gli altri bambini ha avuto un piccolo buco al cuore che l'hanno operato e adesso è una bellissima bambina gloria a Dio potete dire gloria a Dio noi serviamo un Dio che fa miracoli quando il popolo di Dio è fedele alla sua parola lui è fedele al suo popolo loro hanno detto non sappiamo cosa sarà la nostra vita se lei nasce e sta male non ha importanza lei è una creatura di Dio alleluia possiamo essere presi nella trappola di Satana vi ricordate di Elia gran profeta di Dio dopo gran vittoria sui profeti di Baal adesso si trova che la regina lo vuole distruggere lo vuole uccidere Elia deve sfuggire per la sua vita si trova adesso depresso così depresso che lui dice Signore basta basta avete mai detto basta vi è mai capitato di dire basta non ce la faccio più non posso più fare un altro passo avanti Elia disse prendi l'anima mia portami via di qua non ce la faccio più lui era in mezzo a una prova pesante difficile non ne poteva più c'era questo spirito di depressione alcuni di voi forse siete qui siete oppressi siete depressi forse siete disperati la disperazione entra nell'anima quando nessuno ti crede quando tu tu dici ho male e ti dicono e dai e ancora tu e smetti già quando le persone attorno di te non vedono che quello che tu stai passando è reale ma sapete una cosa c'è un Dio in cielo e lui conosce il tuo caso lui sa quello che è reale e lui ha la potenza di guarirti quest'oggi sicuramente è una cosa che il nemico non vorrà mai che tu vedi la luce alla fine del tunnel lui vuole che la tua vita sia soltanto tenebrosa oscura lui vuole che la tua vita sembra completamente fuori controllo per alcuni c'è un senso di abbandono molto spesso o anche di rigetto molto spesso i nostri giovani c'è ci sono problemi di peso ci sono problemi di self-esteem autostima autostima di apparenza di andare a scuola dove altri bambini prendono in giro e quindi ci viene questo senso di abbandono i bambini che sono vittimi del divorzio non voglio parlare del divorzio ma succede molto spesso che si sentono rigettati mamma e papà non si amano per colpa mia questo è lo spirito che il diavolo mette nel cuore delle persone ma la Bibbia dice siate forti e coraggiosi non temete e non vi spaventate perché il tuo Dio è colui che cammina con te egli non ti lascerà e non ti abbandonerà allora ecco questo carceriere in in quel luogo un attacco all'improvviso sulla sua vita dal punto di vista di Paolo e Sila c'è gran gioia c'è la gioia sono liberati nessuna prigione sapete che nessuna prigione vi può mantenere dove c'è la potenza di Dio ma questo carceriere la sua situazione è fuori controllo un momento la sua vita va tutto bene lui ha una famiglia sta dormendo tranquillamente e poi questo attacco da parte del nemico le circostanze come abbiamo detto possono cambiare improvvisamente vai al lavoro ho sentito dire che c'è crisi in Italia vai al lavoro oggi c'hai il lavoro domani non ce l'hai più non so come succede qui in Canada mia figlia lavora per una ditta che è stato comprato da un'altra ditta lei dice papà ogni giorno le persone spariscono dice non so se è un rapimento cooperativo che cosa dice un giorno la persona sta a fianco a te ti sta lavorando poi viene una chiamata dalle risorse umane e quella persona sparisce nemmeno il tempo di venire alla scrivania a riprendersi tutta la sua roba l'accompagnano fuori la roba te la portiamo noi vedete che viviamo in questi tempi in cui la tua vita può cambiare può essere trasformata improvvisamente dalla malattia dal 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 lavoro in qualsiasi maniera un giorno sei un grado in grado di pagare le tue bollette l'indomani sei inondato di debiti ma il salmista nel 119 81 dice l'anima mia viene meno nell'attesa della tua salvezza io spero nella tua parola posso possa il signore mandarci una parola stasera una parola come ha mandato al carcerato perché verso 28 Paolo gridò ad alta voce non farti del male perché siamo tutti qui alleluia è un grido incredibile è il grido della chiesa di cristo in questo mondo quando c'è un mondo che è disperata un mondo che non sa cosa fare la chiesa grida non farti del male non farti del male perché siamo qui c'è la potenza c'è ci sono le promesse di dio ancora per la tua vita non disperare c'è un mondo che è sulla via della distruzione e della disperazione alleluia non dobbiamo mai far sì che nella nostra gioia che la nostra gioia ci rende ciechi mi comprendete non dobbiamo far sì che la nostra adorazione noi veniamo in chiesa che gioia alleluia praise the lord questo è inglese praise the lord gloire a dieu francese bravo alleluia ma quando usciamo di queste porte poi ci chiudiamo gli occhi e non vediamo nessun male ho notato che paolo poteva rallegrarsi per la gran gioia di essere liberato ma il suo spirito è stato sensibile a qualche altra cosa c'è qualcosa che sta succedendo siete mai stati presenti in chiesa e si vede un fratello o una sorella afflitta questo è lo spirito santo che ti sta rendendo sensibile al bisogno del tuo fratello paolo era attento paolo aveva una voce hai tu una voce non come la mia un po' più bella questo carceriere ha pensato che tutti furono fuggiti ma non era la realtà questo è il nemico che opera sulla mente del mondo cercherà di operare nella tua mente nella stessa maniera ti dirà delle bugie e cercherà di farti pensare qualcosa che non è vero questo carceriere pensava che tutti furono fuggiti invece sente una parola che è una parola che viene dal cielo per mezzo della bocca di paolo non farti del male alleluia credi nel signor gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia alleluia quanto è meravigliosa la parola di Dio sarai salvato tu e la tua famiglia vedete che la salvezza è per la nostra famiglia quest'uomo è stato salvato fisicamente ma soprattutto spiritualmente ma lui ha avuto anche la gioia di vedere la sua famiglia trasformata e salvata quest'uomo sapete trascorreva le sue giornate in una prigione probabilmente molto oscura ma che gioia che noi serviamo un Dio che è specializzato a parlare alle tenebre e portare ordine vi ricordate in Genesi il caos l'oscurità ma lo spirito di Dio dimorava su quel caos e ha portato ordine ha portato luce e lo spirito di Dio porta luce nella tua vita stasera quando Paolo gridò nelle tenebre di quel carcere era la voce di Dio che ha dato speranza a quest'uomo ma una cosa in più Paolo disse non farti del male perché siamo tutti qui sapete forse c'è qualcuno qui che sta vivendo nell'oscurità voglio annunciarti che tutte le promesse di Dio sono qui presenti per te quando Dio parla nelle tenebre lui dice tutte le promesse mie sono qui nessuno di loro ha sfuggito io non ti lascerò e non ti abbandonerò io sono la risurrezione io sono la vita nulla avete sentito ho finito ho terminato potete dire alleluia nulla ti può separare dell'amore di Dio noi abbiamo ancora la giustizia di Dio in Cristo Gesù queste sono le promesse di Dio nulla di loro sono sfuggiti alzatevi in piedi per favore